Mi trovo all'interno di un supermercato nel Brunei, come potete vedere è ricco di qualsiasi cosa, c'è il reparto frutta, dibite, vabbè è enorme questo qua, un posto, un supermercato veramente non finisce più, i dolci, i sushi, altre biscottini, scatola, reparto suggerati, c'è veramente di tutto, per essere nel Borneo, in un posto isolato, abbiamo robe surgelate, pacchi non pacchi, per essere in un posto isolato abbiamo le bevande, vari tipi di tè, c'è veramente di tutto, un posto incredibile, sto andando alla cassa, ecco vi faccio vedere l'effigie del sultano e anche sui soldi, guardate, è lui, questo qui è esposto ovunque, è il massimo dell'idolatrazione, neanche Stalin era così rappresentato.